buongiorno buongiorno regione razzoite buona domenica a tutti quanti eccoci qua un'altra domenica è passata è che bello oggi leggevo su faccio brutto su tutor dei consumatori no un mio amico dino potenza che anni fa ha diciamo ha denunciato alcune situazioni a sangarlo e alcune persone sono state condannate medici dottori professori professoressi diciamo altri no altri forse vanno in prescrizione perché la lungaggine delle indagini beh d'altronde in italia è così se non passi 7 anni poi altri 7 sono 15 anche 35 anni e non si chissà se si arriva a conclusione speriamo diciamo io però volevo pure chiedere a chi di competenze magari se qualcuno ci può dire qualche cosa e come è finita la storia del don uva di quelle brave persone che abbigliava una scaffa a quei poveri ammalati e c'è queste persone sono sono a casa sono tornate al lavoro magari spostate a potenza a materi in altri in altri nasocomi non lo so qualche cosa perché almeno se il cittadino lo sa almeno dove sono poi si vedrà la giustizia farà il suo corso ma dica se almeno il cittadino sa che in quel posto ci sono quelle persone trasferite almeno non porti parenti no non l'imposto diciamo almeno per capire così vabbè magari circolano tranquillamente beh giustamente sì sì fin quando non si fanno i processi e quando si fanno i processi domando qualcuno può rispondere qualche giornalista che è informato che magari ha seguito il caso ma non lo devi dire a zio vitolo magari fa un articolo sul suo giornale lo dice a qualche altro lo dice lo dice fa un bell'articolo e ci spiega come stanno le cose se stanno le cose e sì che quello uno come voglia l'altro quello là quello giocava comunque poi volevo dire un'altra cosa oggi è andata a messa è andata a messa è andata a messa è il problema è che zio vit cambia chiesa ogni giorno nel senso perché c'è il problema dei separati non lo dice non posso impiegare la comunione allora la chiesa si sta aprendendo grazie a mattia si apre anche se non troppo però sta facendo passi da formiche abbastanza grandi e quindi volevo sapere perché infatti che dice wow attento a quelle da la comunione domani che a quelle separate fatti cazzo di chi ha la signora del luogo diciamo che cambia cent'anni forse anche una trentina magari e sì lei mi spiega sta cosa perché le persone separate non posso spiegare la comunione no però poi si è un delinquente si confessa di ciò ci sono persone 5 10 20 e poi perdonate i peccati c'è questa diciamo questa differenza che zio vit non ha mai capito diciamo perché la chiesa non fa mai capire niente questi sono i misteri gloriosi i misteri peccanimosi i misteri della chiesa meglio che non entriamo nella chiesa perché sennò non mi ha cominciato mamma mia apri sotto tetto e non conviene perché diciamo come si dice quando la merda la smuva chiuda smuva e chiupuzza quindi voglia quando ce ne sarà la eh niente questo volevo dire poi che devo dire più ah niente oggi domenica ci sta poca roba perché la gente è in vacanza succedono meno cose oppure succedono che non ce ne accorgiamo ma sempre qualche cosa succede sì 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 e niente ah volevo fare un appunto diciamo questo faccio un appello alle forze dell'ordine eh sì perché bisogna far solo un cittadino voglio fare un appello che l'altra 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 sera era tardi zio vit si ritirava col motocarro lungo la zona industriale di potenza la dopo la ferriera eh e quel rettiline stavo mettendo sotto tre signore che sono di quelle non erano tanto vestite diciamo sono quelli che aspettano l'autobus che non passa mai diciamo l'autos grande ma le macchine piccoli beh allora questi signori che fanno questo lavoro come dici vecchio quando il mondo diciamo perché stanno là è una domanda che faccio i carabinieri polizie lavorano fanno i turni di notte alla ferriera diciamo ma magari uno mi ha detto ma se vedi ma quelle poi anche che le mandano via e il giorno dopo arrivano e la polizia che sta a fare? e il giorno dopo arrivano là e le mandano via e il giorno dopo ancora e un giorno dopo vanno di nuovo stanno a stanca prima o poi se loro la polizia o i carabinieri non lo so comunque è un appello che io faccio vedete un po' perché poi se zio vit deve andare in galera perché magari ha messo un di queste sotto e purtroppo ha fatto un danno addirittura lo può uccidere perché c'è un incidente al buio non si vede là è buio pesto poi queste sono devo dire sono pure un po' scordi non mi ricordo che colore sono ma sono di colore e quindi le metto sotto perché deve pagare zio vito per una cosa che è illegale che si fa là? tutto qua come sempre all'uolo beh certo all'uolo in questo caso è proprio diciamo dovuto all'uolo in casa l'uolo beh ciao 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 ciao